Ciao, 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 grazie di essere qui, 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 con me oggi, 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 oggi sono qui per farti tenere l'attenzione per tutta la durata del video, ehi, 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 ti vedo, ti vedo, ti vedo, allora regola di questo video, vinci se riuscirai a guardare tutto il video senza mai distrarti, ok, semplicemente seguendo le mie istruzioni vedrai che io farò di tutto, poi non parte distrarre, secondo regola, lo so che stai guardando i commenti, no, 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 devi guardare me, 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 ok, qui, rimani qui, rimani qui lo faccio per te, rimani qui, non scorrere, non cambiare video, non te ne andare le mani qui, 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 ok, molto bene molto bene, adesso questo video sarà in stile un pochino veloce, fast, fast, fast and aggressive ma, 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 avrà anche del trigger periferico cos'è il trigger periferico, ti dirai? il trigger periferico non è altro che questo, ok io ti dico di guardare esattamente di fianco allo schermo, guarda qui sposti il tuo sguardo, esatto, fantastico e nel mento che tu ti dico sguardo qui, fisso, mi raccomando, non parare concentrazione molto bene, molto bene, ti assicuro che sei molto fiero di te stesso, te stessa quando avrai finito questo video ma tieni quello sguardo e adesso io andrò semplicemente a fare così come dici ti stanno venendo un sacco di prevedi lo so, lo so perché questo sta allenando la tua visione periferica perché tu stai guardando di fianco allo schermo e quindi vedrai questo pennello di lato ok? e questa cosa ti fa venire davanti, tanti, tanti prevedi ok? ancora un po', ancora un po', non ti distrarre adesso sposta il tuo sguardo dall'altro lato benissimo, molto bene sposta, 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 sposta lo sguardo ok, benissimo adesso lo sguardo rimane qui, qui, qui mi raccomando e comincio fra tre, due, uno e adesso farò così alternare un po' il pannello alla mano continuo a non guardare lo schermo non guardarlo non guardarlo molto bene fantastico fantastico, fantastico adesso visto che non voglio farli distrarre assolutamente assolutamente, assolutamente devi indovinarmi di che animali imiterò il verso diciamo così ok? cominciamo subito se vuoi puoi scriverli anche nei commenti miau, 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 miau fantastico ancora due la tua concentrazione deve rimanere qui se ti puoi aiutare concentrati sulla punta del mio naso se ti puoi aiutare a mantenere la concentrazione altri due versi di suoni suoni diversi questo è facilissimo molto bene e un altro facilissimo fantastico ti ringrazio ti ringrazio perché hai fatto questo sforzo di mantenere la concentrazione tutto questo tempo esatto e adesso continuiamo battiamo questo record stai qui stai qui stai qui non ti distrarre molto molto bene adesso ti farò delle semplici domande questa seconda te cos'è? ok un accendo un quadernino ok e di che colore è? si va benissimo sia viola che lilla e di che forma è? ok perfetto quadrato invece questi segnapagina di che colore sono? di che colore sono? ok questo è più chiaro o più scuro bene questo è più chiaro o più scuro molto fantastico e invece questo di che colore è? di che colore è? di che colore è? molto bene e invece adesso aprendolo vi chiedo cosa c'è qui dentro cosa vedi? quindi vedi righe 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 esatto no quadrati no puntini delle righe 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 molto bene e adesso e adesso ti chiedo di ascoltare per dieci secondi dieci secondi questo suono rimani qui lascia che ti rilassi lascia che ti rilassi questo suono fantastico molto bene grazie adesso ti chiedo questo questo è un esatto è una spazzola una spazzola una spazzola molto bene adesso questa spazzola che forma te la faccio vedere meglio ok benissimo guarda meglio che forma una stella perfetto di che colore è qui? ok rosa di che colore è qui? trasparente perfetto e quante punte ha questa stella? ok uno due tre quattro cinque molto bene fantastico fantastico guarda di per cinque secondi questo tapping molto bene molto bene continuiamo tu rimani qui con me rimani qui con me fantastico adesso ti chiedo ti adesso invece questo 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 oggetto che forma è un cuore molto bene un cuore un cuore un cuore e quante punte ha questo cuore? una esatto una punta una punta di che colore è? sì lilla viola puoi dirmi quello che vuoi? benissimo e adesso altri cinque secondi ad ascoltare questo suono ok? concentrati rilassati concentrati rilassati se hai difficoltà a concentrarti ritorna sul mio naso se vedi che i tuoi pensieri stanno vagando ritorna sul mio naso ok? sarà sempre qui fantastico molto bene ricorda se perdi 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 la concentrazione torna da me e guarda il mio naso per riconcentrarti su questo video stai facendo comunque un lavoro splendido ti faccio i miei complimenti davvero ok? adesso ti chiedo di dirmi quanti dito quante dito vedi ok? molto bene molto bene ok benissimo molto bene benissimo fantastico fantastico io ancora molto bene molto bene fantastico benissimo e adesso sempre quattro benissimo e anche questo test è sperato alla grande sempre complimenti 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 e se ti distrai di nuovo il mio naso di nuovo il mio naso di nuovo il mio naso adesso ti chiedo di che colore è questa maglietta di colore è questa maglietta ok 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 e adesso la maglietta gialla pensa a un oggetto di colore giallo può essere il tastuccio il tuo zaino la tua sveglia i tuoi capelli ok adesso penso a un cibo di colore giallo secondo me penserai il limone non lo so ok 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 adesso che colore sono i miei capelli più o meno potrei dire grigi ma facciamo viola adesso penso a un oggetto con questo colore penso a un oggetto viola penso a un oggetto viola penso a un oggetto viola molto bene fantastico scrivi nei commenti che avete pensato ok sia del giallo sia del viola e adesso invece facciamo un altro test adesso dovrai concentrarti tantissimo e dirmi che suoni senti in sottopondo se li conosci e intanto si sente anche la mia pancia scusa intanto è quasi ora di cena si sente la senti la mia pancia la stai sentendo la mia pancia concentrati sui suoni della mia pancia ok allora primo suoni sottofondo oltre la mia pancia primo suono fantastico 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 ok si ti metterò sempre la soluzione qui da qualche parte scritta quindi presta attenzione anche allo schermo allo schermo allo schermo ok perché ti metto la soluzione qui da qualche parte secondo suono ok e ti metto la soluzione da qualche parte da qualche parte qui nello schermo da qualche parte qui nello schermo da qualche parte qui nello schermo terzo suono ascolto bene provo ad ascoltare fantastico e ora la soluzione è qui molto bene dove comparerà ok benissimo ultimo suono ok ascolto bene concentrati benissimo ancora un pochino ancora un pochino e la soluzione apparirà qui qua e che parte molto bene molto bene adesso è l'ora di fare delle scelte delle scelte delle scelte delle scelte ok ti chiedo se dovessi scegliere una vacanza a fare preferresti mare o montagna mare o montagna mare o montagna scegli 3 2 1 molto bene se dovessi visitare una città nel mondo ok sceglieresti Tokyo o New York 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 molto bene e adesso fra due città invece europee preferiresti visitare Roma 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 o Berlino perlino perlino Roma o Berlino Roma o Berlino Roma o Berlino Roma o Berlino ok benissimo 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 e adesso ti chiedo come cibo preferisci la pizza o il gelato pizza o il gelato pizza o il gelato pizza o il gelato perfetto grazie e adesso alcune altre domande ok va bene il tuo nome contiene più di cinque lettere sì o no sì o no sì o no sì o no il mese in cui sei nato nata è prima o dopo giugno sì prima dopo prima dopo prima dopo ok e l'anno della tua nascita è un anno pari o un anno dispari pari o dispari pari o dispari pari o dispari e adesso dimmi quante lettere ha il tuo cognome ok contale contale sono qui da aspettarti ok molto bene e adesso quante lettere ha la tua città benissimo benissimo fantastico adesso devi resistere ancora poco 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 mi raccomando ci siamo quasi non mollare qui non mollare qui con la concentrazione ci sei quasi stai facendo un lavoro splendido sono incredibilmente fiera di te ok quindi continua gruppo adesso 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 ti devo chiedere invece ancora di guardare questo punto dello schermo ok guarda qui guarda qui guarda qui facciamo ancora un po' di trigger periferico ok ancora un po' di trigger periferico con la luce ok quindi non 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 seguir la luce non seguir la luce ma guarda il mio dito qui continua a guardare il mio dito continua a guardare il mio dito per cinque quattro tre due uno molto bene e adesso guarda da questa parte dello schermo sposti il tuo sguardo e non 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 guardare lo schermo finché non te lo dico io ok resisti non guardare la luce non guardare lo schermo e resisti per dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno fantastico adesso mi devi dire quale ozzetto è più grande dell'altro ok quindi dimmi quale è più grande il pennello bianco il pennello nero fantastico il pennello nero quale è più grande il pennello bianco il pennello sireno il pennello sireno quale è più grande lip gloss o pennello bianco lip gloss stupendo quale è più grande penna o lip gloss penna o lip gloss penna o lip gloss penna o lip gloss direi proprio direi proprio la candela quale è più grande candela operattolo candela operattolo candela operattolo ok la candela quale è più grande quale è più grande la borsa conchiglia o la borsa rosa quale è più grande quale è più grande quella conchiglia molto bene ok quale è più grande quale è più grande il cubetto di legno il cubetto di legno esatto, sono uguali perfetto, vedo che la tua attenzione era al massimo e adesso ti chiedo, quale è più grande? quale è più grande? cioè la superficie, quello che vi dite quale è più grande? eh sì, direi che è proprio la stella di poco, ma è più grande quale aggetto è più grande? la stella o la spugna? quale si chiama più grande? quale aggetto è più grande? facciamo quale aggetto è più largo? ancora la spugna, anche se è di poco e adesso domanda, questa spugna ci starà sopra questa clessitra? sì o no? proviamo no, no, no non c'entra di che colore è questa? blu? di che colore è questa? aranzone è fantastico e che colori ci sono dentro? sempre blu e sempre aranzone e provo a indoninarmi che cosa c'è dentro? indizio si chiama così anche quella che c'è al mare ma questa è cinetica esatto c'è della sabbia cinetica proviamo ad aprirla questo è un po' secco in realtà andrebbe ripresa guarda che bella concentrati concentrati un pochino sulla lentezza di questa sabbia non è bellissimo? ancora un po' dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno basta 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 è caduta ok adesso ultimo quiz ultimo quiz e poi ti do una buonanotte e intanto voglio farti già le congratulazioni per essere arrivato arrivato comunque adesso ultimo quiz molto breve ok io ti dirò una frase di una canzone e tu mi devi dire chi l'ha cantata o a chi cartone appartiene eccetera eccetera ok bene adesso Marco se ne è andata e non ritorna più Marco se ne è andata e non ritorna più Lara Posini o Tiziano Ferro ok e questa perdono se quello che ho fatto è fatto io però chiedo scusate che la mia sorriso io ti porgo una rota Lara Posini o Tiziano Ferro ok spero tu non sia troppo giovane per queste canzoni però nel caso devi andare a recuperare comunque ok adesso invece in fondo al mare in fondo al mare in fondo al mare in fondo al mare la si è detto Mulan ok e poi ieri era zero 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 oggi è un guerriero è il più fiero cos'è? Hercules no sempre Mulan Hercules ovviamente ok e dopo averti fatto queste domande io ti ringrazio ufficialmente per essere arrivato arrivato fin qui guarda ti pare da un attestato sono fiera di te e del fatto che siamo arrivati fin qui quindi ora decisamente dopo questo sforzo di concentrazione puoi chiudere chiudere gli occhi e se vuoi un po' di trigger periferico basta guardare di qua ok? guarda di qua guarda di qua mentre io ti accarrezzo il viso e io ti ringrazio ti ringrazio ti ringrazio e penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio 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 è aggiunta allora ti 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 a passare le luci e augurarti augurarti una buona buona buonanotte 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 sogni d'oro good 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 night sweet dreams sweet dreams buona souvenirs buon buon nuì buon nuì buon nuì vede, io ho ieri per dena, delle canoche, delle canoche, buonanotte fastidgini, buonanotte fastidgini, un bacio che li spero